Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la maglia pre-match del Liverpool, quella chiusa in trasferta per la stagione 22-23, nella versione fan. Introducendo un look affascinante, la maglia pre-partita Nike Liverpool 2022-23 Away combina una base bianca pulita con un motivo grafico all over, viola, composto da diverse forme e strisce. Tutti i loghi degli sponsor sul petto sono neri, inclusa una versione ricolorata in nero del Live Bird sul petto a sinistra. La maglia fan è la versione pensata per i tifosi ed ha una vestibilità più comoda. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclate al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Un ulteriore passo di Nike e del club verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. Cosa ne pensate? Ormai ho visto quasi tutte le maglie, quindi a questo punto siamo passati alle versioni pre-match e alle versioni da portiere. Questa, secondo me, nella mia personalissima classifica, prende 4 stelle. Una bella maglia dei bei colori, le rifiniture sono eccezionali, fatte veramente molto bene e al costo che vedete qui sopra veramente un affare da non perdere. Vi ricordo che in descrizione, qua sotto, potete trovare tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto potete trovare anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso a 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. FAN.